Torna alla tradizionale fiera di marzo in pieno centro a Novara. In questo weekend troverete oltre 200 bancarelle. Sul prossimo numero, nel dicola da venerdì 11 marzo, troverete le interviste ai commercianti e agli ambulanti che ci spiegheranno com'è la situazione del commercio in questo settore delicato. Tutto bene, dopo due anni di pandemia, se vogliamo, ritorniamo a fare questa fiera. La risposta è abbastanza positiva. La gente fuori all'aperto ha voglia di camminare, di stare, di guardare, di comprare. Adesso con un periodo così c'è da avere un po' di pazienza, però siamo tutti molto fiduciosi. Speriamo in bene, ecco, che la situazione migliori in tutto e per tutto.